La zona è sempre libera. La zona è sempre libera. La zona è sempre libera. La zona è libera. Che cazzo era quella roba? Non sembrava una zombie. Se l'è squagliata. Ok, diamoci dentro. Ok, diamoci dentro. Wow, che benvenuto del cazzo. Ok. 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 T, mi ricevi? Si aggira una strana presenza. Non so cosa sia. Una strana presenza? Ok. Controllo con le telecamere. Sta attento. Ok. 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 Ah 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 Non penso di voler fotografare quelle cose Ah 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 Oddio sparare ai poliziotti Carlos, l'ufficio si trova poco più avanti Ricevuto Oh porca puttana, perché è bloccato? Lasciamo perdere Ok, vorrà dire che faremo un bel botto 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 Vieni da papà Ok, vorrà dire che faremo un bel botto Carlos, sembra che qui non possa fare più niente Ti raggiungo Ricevuto Ok, vorrà dire che faremo un bel botto Ok, vorrà dire che faremo un bel botto Presto, presto, presto Presto, presto Con calma. Mettetevi in fila. Ancora tu. Dottor Bard. Oh, grazie a Dio. Hai idea di quanto abbia provato a contattare qualcuno? Tranquillo, la tireremo fuori. Mi dica dove si trova. Sono intrappolato in un potuto ospedale circondato da mostri di ogni genere. Senti, manda quegli stars e loro sapranno cosa fare. No, negativo. L'ARPD è stato invaso. Allora inventati qualcosa. Alla ombrella sono infazziti, ci vogliono tutti morti. Io sono il solo a sapere come creare il vaccino per mettere fine a tutto questo. Quindi o te ne stai lì con il cazzo in mano? O mi mandi qualcuno in grado di tirarmi fuori di qui? Già lo adoro. Non ne dubito. Lo hai sentito? Non possiamo consegnarlo alla compagnia. È Mikhail il capo. Non siamo noi. Provo a trovare la posizione del dottore con il computer. Ci vorrà un po'. Dà un'occhiata in giro, vedi se trovi qualcosa di utile. Dà un'occhiata in giro. È Jill, quella in prima fila. È Jill, quella in prima fila. È Jill. Ah, merda. Aspetta, cosa? Jill, Jill, che succede? Jill, rispondi! Ti devo andare. No problem, penso io a parte. No problem, penso io a parte. Sono l'unica sopravvissuta. No! Carlos, rispondi! Carlos! Merda, non c'è segnale Non c'è segnale Non c'è segnale Non c'è segnale Bastardo, ancora vivo Non posso stare qui Non c'è segnale Non c'è segnale Non c'è segnale Non c'è segnale Non sa neanche nuotare Carlos, rispondi Che succede? Non ce l'abbiamo fatta Abbiamo deragliato Deragliato? Ci sono feriti? Sono tutti morti Mikhail, tutti quanti Oh, merda È stato Nicolai a tradirci Aspetta, cosa? Ma che cazzo? È qui! Jill? Jill, che succede? Jill, rispondi! Non c'è segnale Adesso basta. 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 Adesso. 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 Vale. Jill! Ehi, rispondimi. Oh, cazzo. Tyrell, mi ricevi? Cosa succede? Jill è infetta. Ora... Ora la porto all'ospedale. Forse il dottor Bard può curarla. Ricevuto, ci vediamo lì. Tieni duro, Superstar. Ce la farai. È vero. È vero. È vero. È vero. È vero. Resisti, Jill. Troverò quel vaccino. Andrà tutto bene. Promesso. Dove si trova Barba? Deve essere nel laboratorio. Occhi aperti, sto arrivando. Ricevuto, vado avanti. Grazie. Non ho tempo per voi! 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 Dottor Bard, è lì dentro! Sono venuto a salvarla! Apra la porta! Riconoscimento vocale fallito! Riconoscimento vocale? Che cazzo è? È un film di fantascienza! Apriti sesamo! Riconoscimento vocale fallito! Sono Nathaniel Bard, aprire la porta, per favore! Riconoscimento vocale fallito! Avanti, fammi entrare! Cazzo! Riconoscimento vocale fallito! Serve la voce di qualcuno autorizzato ad entrare! Riconoscimento vocale fallito! Riconoscimento vocale fallito! Riconoscimento vocale fallito! Grazie a tutti. 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 presto. a tutti. a tutti. tutti. a 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 tutti.